Buongiorno e ben trovati con l'appuntamento settimanale con il TG di GT Sport. Ispec confermata singola lobby a P1, si aggiungono DC Team, ACT, Scatruria, TSM, Roadrunners, l'inizio è previsto per il 2 febbraio, Lamborghini Super Trofeo, Round 2, Autopolis International Racing Course, chiude davanti a tutti i sgobbi a seguire Yuri Noveglia e poi a completare il podio Franky Spree, adesso si vola per il terzo appuntamento in terra croata. Novità, evento Porsche by Energy Motorsport, si parte il 24 febbraio, ore 21.30, segui l'endurance di 90 minuti live sul canale Twitch del DC Team, tanti team e tanti piloti pronti a dare spettacolo per questo grande grande evento. Novità, nuovo evento Extreme Race in Zone in arrivo a febbraio, ultimo su DC Sport, si chiamerà Endgame e sarà aperto a tutti i tier, sarà l'ultima celebrazione di una grande piattaforma. Questo è tutto, ci vediamo presto per altre notizie.